I componenti della baby gang che hanno creato il terrore tra i coetani e forse spinto anche al suicidio il 13enne, Alessandro Cascone, sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia. Sono cinque minorenni, due dei quali già indagati, come detto, nell'ambito del procedimento penale proprio relativo al suicidio avvenuto l'1 settembre a Gragnano. Un'indagine complessa, delicata, considerata l'età dei protagonisti, ma che ha svelato uno spaccato di società che deve far riflettere e che pone soprattutto gli adulti davanti alle loro gravi responsabilità. Il GIP del Tribunale per i minorenni di Napoli, su delega dell'analoga procura autorizzato l'arresto nei confronti dei cinque indagati, sono tutti indiziati ognuno per la propria responsabilità, tutta da accertare, dei reati di atti persecutori e rapina. Le indagini sono scattate proprio a settembre e hanno consentito di appurare che un ragazzo di 14 anni di Gragnano, quindi un'altra vittima rispetto al povero Alessandro, aveva subito nel corso degli ultimi tre anni una serie di atti persecutori. Gravemente indiziati ad averli compiuti sono proprio i cinque indagati, d'età compresa tra i 15 e i 18 anni, quest'ultimo era minorenne all'epoca dei fatti. Tra gli episodi scoperti dai carabinieri, una violenta aggressione fisica avvenuta nel settembre scorso che ha provocato alla vittima lesioni giudicate guaribili in dieci giorni. Secondo la ricostruzione investigativa, il 14enne sarebbe stato costretto a cambiare scuola nell'anno scolastico in corso e durante la frequenza del terzo anno di scuola media inferiore avrebbe addirittura esternato la volontà di togliersi la vita. Tra gli episodi emersi anche a carico dei tre destinatari della misura cautelare e di un quarto soggetto non imputabile perché minore di 14 anni, c'è la rapina di un coltellino multiuso. Il giovane 14enne avrebbe infine subito sin dalle scuole elementari numerosi atti di bullismo da parte di un coetaneo non destinatario della misura cautelare, poiché all'epoca dei fatti minore di 14 anni è quindi non imputabile.